Un diciannovenne è finito in carcere, arrestato dai carabinieri di Coglie al Metauro dopo essere stato indagato per rapina aggravata dall'uso delle armi, sequestro di persona, atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni di un diciassettenne. Le indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pesaro hanno permesso di ricostruire come il diciassettenne in questione fosse, sin da marzo 2021, vittima di ripetuti atti persecutori e gravi aggressioni fisiche commesse da una baby gang. Le indagini cominciarono il 9 aprile scorso, giorno di Pasqua, in cui i militari furono informati dal compagno della madre del minore che quest'ultimo era stato poco prima rapinato del suo cellulare con la minaccia di una pistola per poi essere malmenato da due coetanei a lui conosciuti. Aggiungeva inoltre che in quel momento il giovane era in ospedale e che lui stesso si trovava in presenza di due presunti aggressori, uno dei quali minorenne. Sul posto i militari, ascoltando i testimoni presenti, si sono concentrati sulla presenza di un'ape 50 di colore verde. Accertata la presenza dell'ape attraverso immagini riprese dal sistema di videosorveglianza urbana del comune di Coglie al Metauro, i giorni successivi sono state pattugliate le zone maggiormente frequentate dai giovani, il mezzo è stato così intercettato e il conducente ha ammesso di aver partecipato ai fatti incriminati. Una volta dimesso dall'ospedale, il diciassettenne ha deciso di denunciare tutto, riferendo di essere stato vittima da due anni di continui atti persecutori e gravi sopprusi. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del diciannovenne arrestato un passamontagna e due pistole modello Glock ad aria compressa di libera vendita, complete di munizioni a palline di piombo e bombolette di gas necessarie allo sparo. È stato trovato anche un PC risultato rubato dalla scuola alimentare Lugli di Coglie al Metauro a fine aprile. Il cellulare rubato è stato poi ritrovato distrutto a calcinelli ai margini della superstrada.